buongiorno a tutti il mio nome è claudio maiozzi studente del terzo anno di giurisprudenza dell'università federico secondo napoli e adesso mi accingo a registrare le lezioni di storia della giustizia dal libro fioravanti capitolo primo origini dello stato moderno europeo allora innanzitutto dobbiamo dire che lo stato moderno europeo ha caratterizzato la storia europea dal tredicesimo secolo sino al ventesimo secolo con varie forme differenti a seconda ovviamente del periodo tenuto in considerazione in virtù del fatto che all'inizio del tredicesimo secolo quindi diciamo dopo l'epoca medievale che ha caratterizzato l'undicesimo il dodicesimo e parte del tredicesimo secolo si è sviluppata una tendenza volta a governare un determinato territorio in maniera istituzionale questa tendenza è caratterizzata contraddistinta fondamentalmente da tre caratteri innanzitutto la presenza di un signore che eserce in maniera consistente i poteri di imperium quindi il potere di dire la giustizia cioè la giustizia il potere di imporre tasse e tributi e il potere di chiamare i soggetti alle armi la presenza di assemblee rappresentative che assumono varie denominazioni come esempio parlaments stati generali lentig e cortes e svolgono fondamentalmente una duplice funzione innanzitutto collaborano con il signore nel governo di un determinato territorio perché il territorio è considerato come un bene comune che quindi deve essere difeso militarmente da eventuali attacchi esterni e soprattutto pongono un limite all'operato del signore del sovrano mantenendo quindi gli ordinamenti e privilegi di ceto e poi la presenza di una serie di regole fondamentalmente di regole di natura consuetudinare che cominciano però ad essere messe per iscritto e costituiscono un vero e proprio contratto cioè il contratto di dominazione che contraddistingue specifica ed eventualmente limita le posizioni delle varie forze agenti su quel territorio compreso il sovrano quindi emerge una realtà istituzionale in cui l'obiettivo è di indurre la generalità dei consociati ad una prospettiva comune per quanto riguarda le forme di stato vera e propria bisogna fare una distinzione tra stato giurisdizionale e al suo interno poi lo stato assoluto lo stato di diritto e lo stato costituzionale cioè quello che conosciamo oggi che si è sviluppato dal 1945 che perdura tuttora per quanto riguarda lo stato giurisdizionale è quello che ha caratterizzato il lasso di tempo intercorrente tra il 1300 e il 1789 anno in cui ci sarà la rivoluzione francese che darà poi la stura alla nascita dello stato di diritto per quanto riguarda lo stato giurisdizionale è contraddistinto fondamentalmente da tre elementi innanzitutto il territorio che viene considerato in maniera unica fermo restando che è comunque necessaria l'enucleazione delle singole parti che lo compongono cioè città comunità rurali enti feudi e corporazioni in piena continuità con lo stato medievale di poco precedente poi abbiamo il governo che non opera tramite un'amministrazione ma tramite la teoria della giurisdizio che approfondirò più avanti nel capitolo terzo e non opera mediante un'amministrazione in virtù del fatto che in questo periodo non esiste una vera e propria amministrazione staccata dalla funzione giurisdizionale ma si svilupperà l'amministrazione soltanto con la rivoluzione francese e soprattutto con l'avvento di napoleone bonaparte per quanto riguarda poi il diritto si tratta di un diritto fondamentalmente comune che è volto a razionalizzare i diritti particolari previgenti ma non ad abrogarli in virtù del fatto che l'abrogazione serviva soltanto con l'avvento delle codificazioni all'inizio del 1800 sempre con la figura di napoleone per quanto riguarda lo stato assoluto bisogna nucleare due visioni tra loro totalmente antitetiche tant'è vero che secondo la visione della storiografia tradizionale lo stato assoluto costituisce la prima forma di stato moderno europeo volta soprattutto a statalizzare le funzioni di imperium quindi il potere di imporre tributi e tasse di chiamare alle armi secondo invece l'opinione di fioravanti che è sicuramente quella più accreditata più che forma di stato si parlerebbe di forma di governo assolutista nel senso che il suo obiettivo era quello di semplificare in maniera assolutizzante e assolutizzata il ruolo dei consigli e delle assemblee rappresentative a favore del sovrano assolutismo che ha conosciuto due varianti tra loro completamente diverse da un lato infatti c'è l'assolutismo francese cioè quello di assoluti quello del di luigi quattordicesimo in questo caso si può parlare di assolutismo vero e proprio in virtù del fatto che il sovrano comandava in maniera tale da depotenziare completamente il ruolo dei consigli e delle assemblee rappresentative consiglio che quindi diventava un organo puramente tecnico e anche perché il re comandava in modo absoluto cioè sciolto da qualsiasi vincolo per quanto riguarda invece l'assolutismo inglese rimarrà soltanto un progetto in virtù del fatto che si scontra con la classica tradizione parlamentare britannica ed è per questo che si sviluppa il principio della monarchia parlamentare basata sul king in parliament sta di fatto che per quanto concerne l'assolutismo francese hanno assunto un ruolo particolarmente considerevole le ordinan di luigi quattordicesimo e successivamente poi quelle di luigi quindicesimo per quanto riguarda le ordinan cioè le ordinanze di luigi quattordicesimo sono state emanate per la prima volta nel 1667 e hanno riguardato quattro materie 1667 per quanto riguarda il processo civile il processo penale poi nel 1670 l'ordinanzi ur commer e quindi il codice quindi la il diritto commerciale nel 1673 che avrà un'influenza considerevole anche sul codice del commercio del 1807 codice del commercio francese e successivamente poi anche nei confronti del codice di commercio italiano del 1882 e poi ordinanze per quel che concerne il diritto della navigazione il diritto marittimo nel 1681 in questo caso luigi quattordicesimo si è fatto ausiliare dalla figura imponente del ministro jean baptiste colber sta di fatto che le ordinanze di luigi quattordicesimo a differenza dei diritti particolari previgenti erano dotati di una forza speciale di una forza supplementare che consentiva alle ordinanze stesse di abrogare i diritti particolari previgenti nell'ipotesi in cui questi ultimi fossero palesemente contrastanti e quindi difformi con le ordinanze di luigi quattordicesimo il problema è però che queste ordinanze mancavano del divito di etero integrazione questo vuol dire che se le ordinanze erano lacunose i giudici nelle loro sentenze avevano la possibilità di far rivivere i diritti particolari previgenti dei vari stati dei vari feudi delle varie corporazioni e diveto di etero integrazione che invece sarà presente nell'ambito dei codici tant'è vero che con l'avvento delle codificazioni verrà spazzata via con la molteplicità dei corpi per quanto riguarda invece le ordinanze di luigi quindicesimo furono emanate nel 1650 se non erro e in questo caso il luigi quindicesimo si fece ausiliare dalla figura del ministro agosto il quale emano tre ordinanze in materia di diritto privato cioè le donazioni testamenti e fede ai commessi sta di fatto che lo stato giurisdizionale ha avuto il merito di far conciliare all'interno di esso due poli tra loro completamente opposti cioè il polo dell'unicità tipico dell'assolutismo monarchico e il polo della pluralità tipico del mondo medievale per quanto riguarda lo stato di diritto è quello che si è sviluppato nel 1789 a seguito della rivoluzione francese che ha completamente rovesciato la realtà politico istituzionale previgente dello stato giurisdizionale la norma più importante è sicuramente la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 il cui articolo 3 stabilisce che il principio di sovranità risiede essenzialmente nella nazione e nessun individuo e nessun corpo può emanare un'autorità che non derive espressamente da esta questo vuol dire quindi che vengono collegati in maniera escendibile potere di imperium e principio della sovranità nazionale la capacità di coazione sui individui è consentita purché sia unica e quindi viene spazzata via la molteplicità dei corpi preesistenti la nazione costituisce un corpo unico e il sovrano può comandare soltanto in quanta espressione della sovranità nazionale quindi si determina una netta rottura rispetto al passato rispetto allo stato giurisdizionale in virtù del fatto che vi è il crollo della funzione giurisdizionale a favore della funzione legislativa e di quella amministrativa i due caratteri dello stato di diritto sono la centralità della legge nella quale si presume sia contenuta la volontà della nazione e poi la nascita della pubblica amministrazione il cui obiettivo è quello di eseguire la legge stessa quindi nasce uno stato a pubblico legislativo e amministrativo con il crollo della funzione giurisdizionale che sarà dotato poi di una costituzione liberale di cui parlerò a breve per quanto riguarda lo stato costituzionale è quello che si è sviluppato nel 1945 a seguito della fine della seconda guerra mondiale tant'è vero che in questo periodo lo stato di diritto viene colpito nella sua centralità in virtù del fatto che la legge viene sottoposta ad un incessante processo di contrattazione sociale ma soprattutto viene introdotto il controllo di costituzionalità nel senso che la corte costituzionale ha la possibilità di dichiarare illegittime determinate leggi che non si attengono che non rispettano i principi fondamentali stabiliti proprio all'interno della carta costituzionale viene così determinata la superiorità della costituzione rispetto alla legge stessa c'è da dire però che tutti i giuristi sono concordi nel ritenere che una prima vera e propria forma di costituzione dello stato giuridico europeo la sia avuta con la costituzione scettuale cioè un ordinamento complessivo capace di organizzare il governo e le relazioni tra i diversi poteri tra le diverse forze che agiscono su un determinato territorio ed è caratterizzata fondamentalmente da due elementi il popolo che è inteso come una realtà storico costituzionale in cui si consociano una serie di soggetti collettivi ma al cui interno si assicurano si riconoscono i singoli soggetti e poi c'è il sovrano che è vero che è titolare del potere d'imperium ma deve arrestarsi diranzi al popolo che è portatore quindi di diritti e di ordinamenti che nucleano la legge fondamentale cioè la costituzione scettuale dalla quale neppure il sovrano può discostarsi perché se così non fosse cioè se il sovrano si discostasse dalla legge fondamentale non la rispettasse allora in questo caso il popolo avrebbe la possibilità di esercitare il diritto alla resistenza con l'obiettivo quindi di limitare il potere che è diventato tirannico e di ristabilire l'ordine democratico costituzione scettuale che è stata definita anche costituzione mista in virtù del fatto che nel corso del tempo ha dato luogo a diverse forme di governo talvolta più spinte verso il polo dell'unicità tipico quindi dell'astrodismo monarchico talvolta invece verso forme volte alla pluralità tipiche quindi del mondo medievale per quanto riguarda la costituzione scettuale assolutistica invece c'è da dire che nel passaggio tra la costituzione scettuale la costituzione liberale i giuristi sono concordi nel considerare l'esistenza di un'ulteriore forma di costituzione cioè la costituzione scettuale assolutistica che è quella che caratterizza i due secoli precedenti alla rivoluzione francese avvenuta come detto prima nel 1789 costituzione scettuale assolutistica che si contraddistingue per la presenza di un monarca quindi della monarchia assoluta ma anche di una forma di governo in cui trovano spazio il consiglio e le assemblee rappresentative del popolo ed è importante nucleare la distinzione che bodin ha effettuato nel 1576 tra regime e governo tant'è vero che per quanto riguarda il regime la monarchia è assoluta ed è espressione del potere di fare le leggi dell'esercizio dell'imperio mentre per quanto riguarda il governo viene recuperato il ruolo dei consigli e delle assemblee rappresentative a cui spesso il monarca fa ricorso per evitare il rischio di isolamento costituzione scettuale assolutistica che cade poi sotto i colpi del giusnaturalismo per quanto riguarda il giusnaturalismo si tratta di una corrente di pensiero sviluppamente filosofica in relazione ad un nuovo modo di pensare l'individuo e la società tant'è vero che in un'europa cinquecentesca e seicentesca dilaniata dalle guerre l'obiettivo era quello di tirar fuori l'individuo dai pericoli e quindi era necessaria la figura di un sovrano che aveva la propria legittimazione dal popolo stesso ed è per questo quindi che il giusnaturalismo valuta l'individuo dal punto di vista dell'essenza cioè nell'ambito dello stato di natura uno stato in cui il soggetto non è in cui l'individuo non è soggetto a poteri vincoli e obbligazioni ma è comunque caratterizzato da bisogni fondamentali e diritti soggettivi quali libertà ed uguaglianza che a differenza del periodo medievale sono attribuiti al soggetto all'individuo in quanto tale non invece per quanto concerne il mondo medievale in cui venivano attribuiti all'individuo in quanto parte di un determinato corpo